E' stata un'irruzione, bella e buona, all'orario di chiusura, quando ormai all'interno del locale non c'era più nessuno se non il titolare. Sono entrati in tre all'interno di un chebabaro di Montenero di Bisaccia, è successo ieri sera e si sono avvicinati subito al gestore di origine pakistana ed hanno iniziato a minacciarlo fino a quando sono riusciti a farsi consegnare tutto il denaro che l'uomo aveva nel suo portafogli. Una somma di 500 euro in contanti, tutto l'incasso della giornata. Poi i non contenti hanno nuovamente minacciato il proprietario e si sono allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Ancora molto impaurito il pakistano non ha avuto il coraggio di uscire all'esterno per vedere dove fossero scappati i tre malviventi. Tuttavia con voce ancora spezzata dalla paura è riuscito invece a telefonare al comando dei carabinieri di termoli di competenza nelle ore notturne. Immediato a quel punto è stato lanciato l'allarme. Oltre agli uomini dell'arma della città adriatica, sul posto si sono portati i carabinieri del locale comando e quelli della stazione di Petacciato. È stato sentito l'uomo di origine pakistana e poi i militari si sono messi sulle tracce di quelle persone che avevano portato a termine la rapina. Per il momento di loro nessuna traccia. Il gestore della Paninoteca ha fornito un identikit dettagliato delle tre persone ma per il momento l'hanno ancora fatta franca. I carabinieri confidano nei filmati delle telecamere delle diverse attività che si trovano in centro a Montenero di Bisaccia. Dopo aver visionato tutte le immagini di ieri notte potrebbero scaturire nuovi elementi per la caccia ai tre uomini. L'allerta dei carabinieri del comando di termoli resta alta. Si invitano nuovamente tutti i cittadini a segnalare alle forze dell'ordine macchine e persone sospette senza nessun timore.